Messa effettuata con Hellis che può andare ad affondare, ha trovato l'anticipo, viene bene Jantunen, parte Fagian, Iroegbu va fino in fondo, sottomano, canestro e fallo, e manderà Ike Iroegbu, insiste Treviso, ancora con Paolius Sorocassa, alza per Hellis, guarda in fondo e poi deposita, senza correre rischio. Un assist e tre rimbalzi anche per Nick Perkins nella sua partita, bravo Zanelli a trovare Tavius Hellis, quindi si sembra poter controllare il match, Iroegbu prova ad attaccare lo stesso Barmella, poi si alza, tira da tre, gran canestro per ricevere sulla pressione di Hellis, poi Baie, mette i piedi di fronte a canestro, parte l'uno contro uno, pasticcia però, perde palla, parte Zanelli per il due contro uno, per Fagian che va in sottomano, quindi Banks spingue dall'altra parte per Zanelli, bravo Zanelli sotto canestro a trovare Imbelizzi, ottimo contropiede per Treviso. Perkins lotta a rimbalzo, il pallone è tirato giù però da Zanelli alla fine e spinge la transizione offensiva, poi appoggia ancora per un ottimo Sorocas.